Qua, ah ci sta dai Quello puoi girare qua Ah ci sta C'è gente con voi no? No no ce ne vanno tutti, perfetto Allora vado già di qua Tranquillissimo Nessuno giusto? Perfetto No no nessuno, solo noi Dai C'è uno, beh c'è uno su destra ma sta lontano Ci stanno i moli che sto pieni di roba E sali Siamo in zona, non ci credo Vedi eh Un piragolo Un colpo fortunato La decima madonna dell'incoronetta Fatti tutti questi si? Eh si ci manca quello lontano lì Che armi c'hai? AKM16 Anche se la K devo dire è abbastanza letale Ma l'hanno, l'hanno boffato eh La K Adesso lo spray, uno spray controllo un po' più decente Perché non ho preso il suo, è indietro che corso? Cazzo Ok Importante quello Un po' silenziale, sembra figo Sto game me lo faccio con la K Me lo faccio dai Oh cazzo Vedi che non me l'aveva preso La K è car Ma adesso faccio un per QBZ colpo singolo, vediamo come va Ma non serve Eh ti serve il compensatore, il caricatore, c'ho un po' di roba Per la mitraglietta Per la mitraglietta C'ho anche il caricatore quello figo Quello caricatore figo c'è la nome, serve solo il mirini Ok Se hai trovato un caro, un M24, vi do volentieri la SLR Ho trovato la SLR, però lo do volentieri perché ho il suppressor Io sono a posto Ma io sto bene Allora butto via il mio 3x Mi stavo tenendo uno di scorta C'ho il 4 Ok, un cazzo Quindi il QBZ da meglio il M4 adesso? Esci un po' Ma anche a colpo singola distanza va bene Sì sì Va bene per tutto quello Perfetto Ma non è male il 3x come il mirino, dai Mh? Non è male il 3x A me fa schifo No è buono, è buono Cioè se devi sparare tipo mini roba così va bene Ma da precisione Poccar e roba del genere ci va malissimo Vabbè e mirino fatto a posto degli AR se vede chiaramente Perchè il lomba da 40 colpi silenziato è sempre figo Quindi non vi serve niente per le mitragliette? C'ho un'impugnatura Ok Sì quella verticale sì che c'ho Allora c'ho questo Ah a me non mi servirà Ok Ho compensato il robreno madonna C'ho il suppressor Ah se vedi che lo devi Quello io tengo sempre il compensatore E se vedo uno che sta a correre e non mi ha visto Metto il silenziatore e gli sparo Se no lo tengo il compensatore che te lo tiene un sacco fermo la mira Meglio a sto punto Chi se ne frega del rumore Che se con la nebbia il rumore Gioca il silenziatore Andiamo a vedere un po' cosa c'è qui Qui invece non l'ho visto che c'era un beside Siamo tipo lontanissimi siamo Poi ci sono una valanga di munizioni per UMP No peggio oggi no Perché altro mi serve uno che metto il 2 che ancora c'è Qua sti qua guarda la casa di fronte proprio Ti ci lascio il ping Elmal 2 Sulla capanna qua Ok qua un cazzo Niente Io ho munizioni Abbastanza pure Tutto Ma già fammi Lo sto cammina lentissimo Guarda no Lo sto cammina lentissimo Ah forse hai messo il tasto cammina Ah control Se tieni premuto control Vai piano Tipo non fa rumore Ah fico Ho avuto accorgere questa cosa interessante Tieni premuto control Non fa rumore e cammina Siamo in zona Bello possiamo andare in giro a cercare le cose Qua è luttato Ok Ragazzi venite questa collinetta che è una cosa per voi Io mi stendo in terra E che arriva per primo c'è un regalo Qui in terra Vai prendi Cosa è entrata la terra dentro questa casa? Chi ne ha beneficiato? La giù è già luttato eh Ah ok sei già arrivato adesso Sì sì Sto nella quarta parte Ok Cosa? Il suppressor Ma non c'è un animo in giro E fu così che morì Ah boh madshot Complimenti bel tiro Perché sto pure a correre la collina Qua è tutto luttato Ah Qui c'è un compensator a R Boost Come state messi giù? Voglio un car Boost 6 painkiller e 2 energy drink Ok ragazzi sono arrivato in un villaggio Quello pieno di kamikaze Perché sei così lontano? Che cazzo fai? Vieni qua vieni qua vieni qua Dove siete voi? Vieni qua intanto abbiamo tutto Tutto Io sto bene Eh è venito a lutta smi che è vuoto Allora vediamo dove stringe Ok dai sta lì Andiamo qua Io non ce l'ho sono disperato Tanto mi riunisco Ovviamente con l'SR supersato c'è la nebbia Non ti vedi e non ti senti Sei la morte Che a legge Non li vedo Di stralciare Oh lì c'è un airdrop però Un po' Vediamo un po' Oddio non è che è proprio impossibile Eh però Però È difficile diciamo così Eh però con la macchina qua diventa fattibile Dai salite a bordo Andiamocela a prendere Dai perché vuoi rischiare M sta Io sono il terzo Sono silenziato Sta qua C'è che cazzo volete fare? Tenete a piedi? No dai è qui Quindi a piedi? Vai Sì sì Io ho messo un ping indicativo di dove potrebbe essere atterrato in linea d'aria Andando sempre dritto poi boh Dovrebbe essere dietro sta collena Io non vedo Sali qui su Snow Dove? Sulla collina a destra No qui qui Perché c'è una jeep qua Ma voi lo vedete? Non lo vedi Snow? No Dovrebbe essere qua in giro Dovrebbe essere più a destra Più o meno adesso avanti a noi Eccolo Non hanno già preso 233 persone Sì infatti È lontano? No sta qua Vediamo se c'è ancora qualcosa Oh Non ci crederete Il gruza? No C'è tanta roba cazzo Il super cecchinozzo quello allucinante Top Allora La WM Ti do il suppressor Vabbè perché tu non ce l'hai un cecchino Sì però lascia all'R C'è trovato un compensatore Ah vabbè tanto uno vuole l'altro Il compensatore R è geloso lui In più? Sì Perfetto allora venite qui in sta casetta C'è in più E io dando gioco presto te lo lascio Se vi so abbiamo 144,556 Allora Prendi sto coso qui Il compensatore R Perfetto I colpi ti servono qualcosa? Questo Io ci sto Il silenzatore è per me? Sì Ok top Speriamo di farci 26.000 kill Ok a stretto Andiamo in zona Che palle Io il ponte Io nuoto Vai vai tranquillo Io vado a destra Nuota nuota E' molto meno l'osco Tu vuoi fare il ponte vuoi fare? Ma non c'è nessuno Sei sicuro? Cioè sto guardando col mirino non vedo nessuno Beh c'è anche la nebbia della nostra Passiamo da sopra o dalla strada? Io passerei dal ponte No sopra sto troppo ingabbiato Non mi posso riparare ma ammazza Devono mettere il mirino termico Devono mettere OP Cagette o qui su? Ah quassù non è male 7 non mi piacciono 22 alive Allora dentro le case là non ci dovrebbe sta nessuno Qui si è scoperto Ok 85 Sopra la collina forse O dietro la collina Stanno tutti tipo dall'altra parte Perchè noi siamo andati lontani Ok stanno tutti su Ci avviciniamo Ok più vicino Arrivo Stanno qua Venni Dove cazzo sta? Andi grob Siete voi? Siete voi? No Mi avvicino mentre sparano Ok ecco ne uno No no Dove stanno? Ehm giù in fondo Ok Ci ho dato un'altra volta andando per finire Dov'è che sono? Gira di verso il sasso Gira di verso il sasso ok Dietro... dietro l'albero è il tipo eh Tieni prenditi qua e prenditi qua Ucciso ucciso Ok Faccio che mi arrivano dagli altri eh Da fuori zona Dobbiamo entrare in zona Ma hai luttato questo? No non l'ho luttato Ok Ecco c'ho tutto via Lascio qui in zona Io vado sotto Che c'ho... Che c'ho... C'ho il cecchino Me ne vado sotto Dove cazzo sono? Chini? Eccomi Oh vedete destra 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 L'ho beccato col fucile noccato Ok ucciso E gli altri? Ehm... Eccoli là Dietro al sasso dietro al sasso E stanno anche a destra E uno sulla casa sotto occhio A 290 sta dietro l'albero Ok uno è laggiù stanno anche sotto eh occhio E a destra sto occhio Sono ancora qui dietro i tipi eh occhio Ok uno è noccato E uno spara da 290 dietro l'albero Lo vedo Finito C'è uno dietro al sasso eh Questo davanti è 235 Sì A nord west preciso della mia posizione Ce l'abbiamo anche dietro verso la zona stagione No no ti spara dal di là dal sasso Ciao Ti ha tirato un granatozzo Ah ci sta già chiudendo Vi copro vi copro vai No no vieni te lui è morto Non gliela facciamo che tirò lo su Ok C'è gente qua nelle case Stanno andando in casa a destra Il tipo qua ci verrà addosso Corri 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 Ciao Abbiamo fatto anche nel balsamme Non lo vedo questo qua Io quelli a destra non li vedo più Ah ecco ne vedo uno Ce l'hai avanti Ce l'hai avanti Oh c'è di là c'era gente eh Snow L'han fatto? Da dove? Super shot dal di lì Ce l'aveva poco più avanti quello che ho visto Stava poco più avanti lui Sembrava dove là Sembrava là Siamo in zona eh Grandi Ok Si Io picco della finestra col cazzo di cecchino Dove? Non lo so No è a 15 più o meno il tipo Ok Oh l'ho visto Dove sta? Aspetta 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 Vieni qua vieni qua Aspetta che vado a coprirmi qua dietro al muro A 10G c'è una roccia sta proprio dietro Esatto Vai Marda mi vede aspetta Sì Stanno arrivando Ecco lì Era la tua era smoke? Sì Ok forse è entrato nella casa qua davanti Sì Li ho fatto malissimo Ok non rischiare eh Non rischiare E' qui dentro Ok uno è di là uno è di là Eh? Ce ne è rimasto uno solo dai C C Nooo ma ha preso sta lì in mezzo alla strada Bella Bella G G G G G Sì Ci sta wide di puttana della tele mamma grassa OH 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 potemco Dei velcro Eeeh Grazie a tutti.